Buongiorno, io sono... boh, nerino, coccolino, rosmarino, tutti i nomi del mondo, c'hai, vero piccolo? Sono stato preso dalla strada due settimane fa, o tre, mi è stato portato la settimana scorsa dopo la sterilizzazione con un piccolo cucciolo buonissimo, è un sogno, da una settimana che è con noi, riconoscervi chiamo quando lo chiami cioè, guardalo, guardalo, che cos'è, che cos'è, è finto, non ha paura degli sconosciuti, anche se vengono gli sconosciuti si fa toccare è timoroso degli altri gatti, ma non li attacca, si nasconde e prende le botte, non attacca mai perché qui ho due gatti, iene, che suonano tutti i nuovi arrivati, lui zitto si butta a terra, scappa via è impasta, è impasta, è impasta, che fai? è impalti amore di mamma, che fai? e che fai? io impasto, Ale vai a toccare rosmarino, nerino, cipollino, ah no tu stai fuori, entra un secondo, non fai entra i gatti guarda che ti viene incontro, che ti ha visto? rosmarino, rosmarino vai, vai Ale non gli è piaciuta l'erba ha rifiutato, vero Rosmi? che ti ha fatto sentire, una puzza? che cos'era? grazie a tutti grazie Grazie.